state per affrontare il campionato europeo di futsal vi sottoponiamo ad un quiz di cinque domande per scoprire chi ne conosce meglio la storia prova pulsante umberto marco prima domanda quante volte l'italia ha vinto l'europeo umberto 2 1 a 0 seconda domanda qual è la nazione che ha vinto più volte sì ma che cosa l'europeo 2 a 0 terza domanda tre opzioni di risposta solo un'altra nazione oltre a spagna e italia è riuscita a vincere il titolo europeo non è ancora di tre risposte ma la so già quale portogallo russia o ucraina marco russia due euro per umberto quarta domanda l'ultimo titolo vinto dall'italia è datato 2014 la finale fu contro la russia quale fu il risultato umberto 3 a 1 ci stai quinta domanda per provare ad accorciare le distanze quali sono i due allenatori che hanno guidato l'italia alla vittoria dell'europeo eh no Marco Menichelli e Nuccolini Nuccolini o Menichelli vince Umberto 3 a 2 bravo grazie anche se ti offro uno spritz ti offro uno spritz grazie grazie